Ciao a tutti e bentornati su una nuova Vanilla adesso che partito con la pubblicità che non ho partito mai ma vi diverterà un sacco vi prometto non con gli altri video schifosi adesso è la prima cosa che devo fare è costruire una casa ok adesso mi prendo questa linea una piccola catapec il fogo albero che c'è qua che la persona tiene ditti farò esplodere non so però cosa farei forse forse nelle scorsi video io non mi sono pescita questo si 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 hun un trago un trozo parti pari cernato Tocci. Tocci. Un partito di nuovo, con la pubblicità, sì, come solito. Certo. Oh, ma che cosa? Si è bloccato tutto. Vintoriamo tutto. eeeh si fu già pubblicità ok adesso si va ma come cosa va fare no lo so che faccio con il mio il mio personaggio per oh ok adesso io faccio quattro eeeh uno due tiri quattro e adesso vado a prendere ancora legna c'è ancora cacao per fare un biscotto serve il cacao ma com'è possibile prende a terra allora non ho spaccato nessun blocchettino di terra ok mi sono preso questi pezzi le devo partire con la miniera mi sono preso mi sono preso di beli stichetti eeeh 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 super eeeh spero che c'è l'audio buono c'è l'audio buono che negli scorsi video che avevo fatto non mi hanno piaciuto sicuro eeeh eeeh non era l'audio eeeh eeeh ok ok eeeh oh mi è scattata eeeh 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 mi piace tutto e ciao